Buonasera signori e signore, consumatori e consumatrici, buongustaglie e buongustaglie, benvenuti a Squatting Supermarket. Vi prego, servitevi pure alle prelibatezze di questo tavolo. Insieme al cibo vi verrà offerto un codice. Conservatelo gelosamente, mi raccomando. Ogni codice è la porta d'accesso verso una storia, verso le persone, i luoghi e le vicende nascosti dentro le cose che mangiate tutti i giorni. Sì, dentro. Non sentite delle voci quando prendete il cibo con la forchetta? Non odorate profumi lontani quando portate il cibo alla bocca col cucchiaio? Non sentite il sudore, le lacrime, le risa e i canti di popolazioni lontane quando sbucciate nel frutto gustoso? Squatting Supermarket, allora, è qui per voi. Lasciate che gli occhi dei sì diventino i vostri occhi. Mostrategli i vostri codici. Sono storie. Le storie vanno custodite e raccontate. Buon appetito!